E' in uscita il movimento più importante formalizzato dal Pescara nell'ultimo giorno di mercato. José Macin si trasferisce al Parma. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto per una cifra di 2 milioni più bonus. La metà di questo prezzo finirà nelle casse della Roma, come pattuito la scorsa estate con i giallorossi al momento del riscatto. Il Parma ha sorpassato il Genoa, società alla quale Macin è stato accostato per tutto il mese di gennaio senza andare all'affondo definitivo. Che invece il Parma ha portato d'improvviso ieri pomeriggio per poi chiudere l'operazione in mattinata. Con il giallo, perché da quanto raccolto a precedere l'epilogo della trattativa è stata la separazione tra Macin e il suo procuratore, l'agente Donato di Campi che appena tre giorni fa, domenica sera, aveva alzato la voce dopo l'esclusione del suo assistito dalla formazione titolare schierata da Pillon a Livorno. Il trasferimento è stato gestito da Simone Pepe. D'altro canto, proprio dal Parma, il Pescara ha acquistato all'esterno basso di sinistra Giovanni Pinto in prestito fino a giugno. Rimasto fuori lista con i Ducani nei primi sei mesi di stagione, il giocatore ha disputato una buona seconda parte di campionato lo scorso anno nell'ascoli di Cersei Cosmi. Sarà Pinto l'alternativa a Cristiano Del Grosso. Il suo arrivo, peraltro, ha fatto decadere la trattativa tra il Pescara e Nicola Falasco del Perugia, che sembrava molto vicino questa mattina. È evidente la mancanza del grande colpo in entrata, del centravanti in particolare. Nulla da fare per Daniel Ciofani, che resta al Frosinone, nessun passo indietro del club Ciociaro, e operazione che il Pescara non ha concretizzato perché il milione richiesto era una somma troppo alta e vi era indisponibilità del giocatore e dello stesso Frosinone a perfezionare una cessione in prestito. Fabio Ceravolo, dopo aver rifiutato la Serenitana, ha deciso di restare a Parma. Nessuno sviluppo anche per il settore esterni d'attacco, né per Mirko Carretta della Cremonese, per il quale si era ipotizzato uno scambio con Marras, né per il nome dell'ultimora Livoriano Iacu Meite del Reading, squadra della Serie B inglese. E allora restano a Pescara Gaetano Monachello, Cristian Capone e Nando Del Sole, che ha rifiutato in extremis la proposta del Cosenza. Restano anche Andrea Cocco e Luca Forte, ma senza far parte del progetto tecnico. Come vi abbiamo anticipato due giorni fa, il Pescara non ha tesserato Matteo Liviero, che invece ha firmato con il Fano fino a giugno, mentre Leonardo Malocu, rientrato dalla squadra di Epifani, è stato girato alla fermana. Sempre dal Fano poi, il Pescara ha acquistato il portiere Filippo Badioli, classe 2002, a titolo definitivo. A consuntivo della sessione di gennaio di mercato, il Pescara ha ceduto. Fornasiera al Venezia, Palazzi al Monza tramite l'Inter, Gravion all'Inter, ma restando in Biancazzurro in prestito fino a giugno, e Macina al Parma. In entrata, Bettella in prestito dall'Atalanta, Sottil in prestito dalla Fiorentina, l'Uruguayano Bellini in prestito con diritto di riscatto dal Wanderers di Montevideo e Bruno dal Livorno, più i giovani Zappa dall'Inter, ma dalla prossima estate Scimia rientrato dal Fano e Badioli sempre dal Fano. Sfumato giorni fa il trasferimento alla San Benedettese di Scalera.